Ciao Arboleta Grazie 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 Mettiamola apposta Sapete che si vede che mancano un paio di luci qua? Ci vedi quella mia qua? Questa? La mia Grazie 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 Sì Grazie. Se dice che ha 70 anni che fa stecchi, fa ciò che non ha detto. Eh? 32 anni. 14 anni. 1885 gli succedi a tutti. ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 minchia posso dire minchia grazie 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 Grazie. 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 Ok. E' una rossa. Esa è una rossa. Sì, sì, ma il marrone è un po' più vicino alla buca. No, troppo, no, no, era giusta. Ancora in là, ancora in là. Buono. E la rossa? Di qua? No, di là. Ancora? Ancora, 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 ancora. Alta? O così era? Sì, sì, non era difficile. Sì, sì, era così, era così. Sì, sì. Sì, sì. Allora, aspetta. 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 Allora. Allora. Allora, aspetta. Allora, aspetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si fa un bel tiro, poi si fa un tiro... Si fa un cazzo... Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 AL Piacere. Plaza Michele. Isso. were... Rappliciamo ancora 16. Rappliciamo ancora 16 andiamo avanti. Grazie.